Ciao ragazze, ciao a tutti e sono qui su Scrap Mechanic Allora, ho iniziato a un nuovo mondo, perché tanto voi sapete finché è in fase di aggiornamento è inutile affezionarsi a un mondo e quindi sono iniziato qui dove c'è un campo di grano dormi sepolti in un campo di grano non è la fame, non è il tulipano non è la rosa, non è il tulipano diceva, vabbè, comunque facciamo perdere le canzoni e c'è quest'albero, mi è venuta in mente una cosa e se noi facciamo una casetta sull'albero quando ero vicino volevo una casetta sull'albero per non farci un cazzo, a dire la verità però una casetta sull'albero c'è cazzo ci vuole una casetta sull'albero allora iniziamo subito qua questa è la nostra altezza massima non posso metterne un altro, vero? cavolino, cavolino però già altezza massima, scusa fammi scendere già a partire quel piano lì a noi ci va più che bene il piano per entrare insomma quindi il primo piano a questa altezza ha già un bel piano e voglio fare il piano in legno quindi proviamo a farlo anche più in alto prima di farlo qui io lo faccio così, lo faccio ah vero ci sono io però adesso mi da problemi perché io per lavorare bene su questo coso devo poterlo eh cazzo premuto shift come se ero su minecraft ok allarghiamo tanto qui poi vedete qua si compenetra con l'albero diventa una casetta sull'albero che è la fine del mondo è la fine del mondo così allora intanto noi facciamo questa prima parte e ce ne mettiamo anche un altro po' tanto i materiali non si pagano quindi sti gran cazzi se si pagassero dici tu vabbè eh si paga però non si paga quindi buonanotte allora questa è la nostra piattaforma dove dobbiamo arrivare adesso noi così non possiamo salire però noi possiamo fare una bella cosa noi possiamo mettere come sempre ovviamente un sistema per salire cioè una scala in pratica una scala che cioè una rampa che si richiude su se stessa quando è chiusa rimane lì in alto eh e ci sta più che bene la facciamo così e poi mettiamo come sempre guarda qui arrivo a 30 km di distanza mettiamo un rollino lì vediamo un po' poi facciamo così vediamo se è vero ok però così non si gira perché non si gira perché c'è questo pezzo in più ok se noi questo pezzo lo rompiamo ok vedete qua si è sminchiato insomma e io se si ferma magari allora mettiamo intanto qualcosa per comandarlo quindi mi serve sia questo oggi non ci serve la macchinina che è lo switch quindi non ci servono neanche le ruote macchine e ruote le abbiamo fatte già troppe allora questo qui lo posso mettere qua sull'albero io lo metterei anche tipo facciamogli un box un box sempre di legno e lo mettiamo un po' rialzato che metti che viene la piena e ci si allaga tutto ci si allaga qui ho lasciato aspetta aspetta eh non mi fare scherzetti non mi fare scherzetti che lo so che tu mi fai scherzetti è difficile ogni tanto ma porca mignotta è difficile ogni tanto dicevo posizionare bene il blocco ok così non si vede bello compenetrato con l'albero non si vede quello schifo facciamo qui un cioè un qualcosa un modo per appoggiare le cose dove possiamo mettere tutto colleghiamo questo con quello lì perché non me lo fa collegare ok perché non riuscivo a vederlo questo con con questo mmm perché è troppo lontano è troppo lontano e quindi io dovrei metterlo dove lo devo mettere per forza lì sotto per il momento lo mettiamo qua ma poi lo possiamo lasciare anche qui magari lo chiudiamo in qualche modo non lasciamolo schifosissimo ok così è collegato noi diciamo che eh per iniziare noi lo vogliamo lì quindi premiamo e noi lo vogliamo in alto quindi dagli meno 90 gentilmente no meno 90 dall'altra parte sbaglio sempre sbaglierò ok meno 90 perché noi lo vogliamo verso l'alto poi quando clicchiamo il pulsante mettiamoci un pulsante per il momento lo mettiamo anche qui il pulsante perché comunque cazzo non ci arrivano quando noi clicchiamo il pulsante vogliamo che questo lo faccia a meno meno 130 meno 150 vediamo un po' ecco quando io clicco si apre e si chiude così è giusto ok noi facciamo quindi riprendiamo qua il legno facciamolo un po' di più non voglio scenderlo troppo però così e qui poi noi facciamo un'altra un'altra aggiunzione voi direte perché fai quest'altra aggiunzione perché voglio fare una multiscala cioè una scala multiservizio ecco no devo farlo sempre di due perché devo lasciare sempre un blocco di rotazione perché sennò si incrociano quindi mettiamo anche questo e da qui poi noi facciamo un altro blocchino ok mettiamolo così dovrebbe riuscire a girare ok perfetto però mi sono dimenticato una cosa perché così come faccio a sistemarla ho sbagliato ho sbagliato può succedere di sbagliare sbagliano tutti sbagliano al mondo d'oggi no dobbiamo mettere prima questo coso qui quindi mettiamo uno di qua perché io voglio che si chiuda poi su se stessa tipo avete presente le scale no non so che cazzo indicarvi come esempio però si si può fare se io la metto di uno vediamo un po' se la metto di uno che succede voglio proprio provare a metterla di uno però colleghiamola intanto qui perché dobbiamo tenerla bella dritta quindi tienimela dritta ok questo lo tiene qua e questo qui non mi serve anche quello ah è un problema però sapete che è un problema perché così non ne posso fare troppi mi basterebbe però farne già tre cinque no ce la faccio ce la faccio ce la faccio tranquillamente quindi vediamo un po' oh cazzo che è successo ok non ti emozionare tu come al solito così non riesci a girare come vedete perché perché qui c'è questo pezzettino se io tolgo questo pezzettino faccio una cappella quindi l'ho tolto mi sa però dobbiamo togliere questo dobbiamo farlo due lungo perché se no non ci sta più no non togliere tutto peraltro le cose cadono mi cadono in testa mi cadono ti ringrazio che mi fai cadere in testa allora mettiamo il blocco qui e il blocco anche qui da questa parte c'è no non c'è più il rotellino quindi il rotellino anche da questa parte che non so se mi serve veramente sì però penso proprio di sì penso proprio di sì allora facciamolo di due facciamo di due in basso uno e due così perfetto farlo anche da questa parte uno e due guarda come impazzisce uno un altro piccolino ok no me ne serve un altro me ne servirebbe perché questo qui non gira perché non ci ho messo il blocco perché ho preso il blocco sbagliato ok quindi se non lo puntate bene a volte vi succederanno queste cose e poi a volte lo puntate anche bene ma lui decide di non collaborare quindi togliete il coso e rimettetelo poi qui sopra fammi questa cosa qui ok perfetto poi prendiamo il nostro strumento qui di controllo super tecnologico lo colleghiamo anche con questo perfetto e qua gli diciamo che in questa posizione allora loro devono partire da meno 90 vediamo un po' come me li mette a meno 90 meno 90 è giusto sapete che meno 90 è giusto anche questo sotto meno 90 quando invece io ti clicco no meno 90 è l'altra parte scusa ok così poi quando io ti clicco tu devi fare ah perché è già cliccato premie ok perfetto quando io ti clicco tu sei in quella posizione me lo devi mettere a più 90 eh sì più 90 è un po' un casino facciamo un po' di prove quindi premi no ho sbagliato premie ok però sapete cosa devo mettere una velocità più bassa perché sennò così non ce lo gustiamo fammi premere vedete qua si chiude su se stesso sì ci sta mo premilo di nuovo ok perfetto dobbiamo fare anche un altro pezzettino però questa volta basta solo un controller allora mettiamo questi qua magari poi i controller li mettiamo li modifichiamo eh me ne faccio un altro sì che vado subito a collegare perché voglio vedere se ci arriva perché può darsi anche che non ci arrivi e quindi qua e gli diciamo che in questa posizione inizialmente devi essere a meno 180 come cazzo è che non ci arriva vediamo che è successo il metro no 180 all'altra parte ah sapete perché no va bene adesso lo sistemiamo va bene questo qui però qua poi devi essere a 90 no più di 90 allora 180 sì perché se faccio 180 da quella parte devo fare 180 anche di qua ok così proviamo a chiuderlo no non va bene non va bene allora riaprilo scusami tu devi girare dall'altro devi girare verso il blu devi girare quindi devo fare prima 180 e invece di qua meno 180 eh ho sbagliato i versi è un attimo con i versi sbagliati eh chiudimelo ok guardate lì come si chiude bene però perché non si chiude si chiude ah perché qui tocca ok riaprimelo devo farlo uno più corto uno più corto però sapete che è sempre un problema ma con le misure va bene le misure poi le scegliamo ho sbagliato a cliccare perfetto ok adesso qui mi serve di nuovo ho sbagliato questo non mi serve mi servono di nuovo altri due due di questi qua che comunque si devono chiudere si deve chiudere su se stessa tipo eh un travezino no il travezino ok ho fame ma non è il travezino quello che volevo dire mi è uscito travezino non so perché mi è uscito travezino ok questi due sono a posto li collego ulteriormente con sto cazzino di coso qua ok mettigli i versi uguali quindi il blu gira di così ok perfetto quando sono aperti devono essere a 90 questi devono essere a 90 quando sono no sapete che invece deve essere al contrario perché questo qui deve girare al contrario di quello sopra quindi quando sono aperti invece deve essere 90 fammi un po' vedere che succede ok questo qui si chiude nel verso sbagliato ok allora no riapri ok inverto le frecce semplicemente basta che mi inverto le frecce quindi freccia di qua e freccia di qua ok chiudi adesso eccolo perfetto è perfetto è perfetto però tocca un pochino tocca no però non fa niente dai pure che tocca basta che non si rompe l'ultimo per ultimo mi serve la parte finale la parte finale ovviamente la mettiamo qui perché poi dobbiamo gestire perché dobbiamo spostarli uno di un po' cioè non possono stare tutti così la parte finale la farei anche così lunga ci può stare è un po' ripida questa scala onestamente però infatti che funziona chissà frega se è ripida se non è ripida allora questa qui tu la metti a 90 e poi la metti a meno 90 vediamo che succede proviamo a chiudere ok succede un casino quando invece si apre perché lui gira di 90 come? quando è aperta 90 verso il rosso quando la chiude 90 verso il blu deve essere così deve essere scusa ok è uscita è uscita adesso dobbiamo solo gestire il sistema per per controllarli meglio ok questa è quindi questa qui si abbassa e noi riusciamo a salire ma che è sti cazzi è troppo ripida dobbiamo fare delle scalette dobbiamo fare e come le faccio le scalette io le faccio così le faccio no non va bene mi sa che ho fatto una stronzata perché è troppo ripida andava fatta meno ripida ah cazzo a cazzolina a meno che a meno che io la apro un po' di meno scusami invece di fare meno 150 qual è il primo fallo meno 105 vediamo che succede eh si come ci arrivo io là con una scala potrei fare potrei allora intanto vediamo se riesco a salire quindi usiamo qui l'ascensore magico ok vediamo se su questa rampa posso salire ok qua ci riesco a salire tranquillamente perfetto perfetto quindi questa c'è poi dobbiamo gestirla solo come come tempistica chiudiamo questo coso non mi faccio niente dato pure che cado facciamo un un qualcosa che mi porta su una basetta che mi porta lì sopra che ci vuole ci vuole un attimo ci vuole mi basta mettere qui una base no aspetta che cazzo stai mettendo è pulsante per terra che controlliamo una base in cemento qui così mi dà stabilità vedi qua mi dà stabilità poi qua dobbiamo fare un no aspetta gira così un un qualcosa che arrivi fin qua circa circa metà poi mettiamo uno di questo lo devo mettere comunque quindi mettiamolo già qui e mettiamo anche il pulsante dove il pulsante lo devo mettere da questa parte così poi riesco anche a scendere se no cazzo se non lo riesco a premere allora intanto metto questo qui va bene metto questo qui ok così lo collego con questo questo deve essere fatto verso l'altro di legno posso farlo anche verso il basso sapete no che cazzo stai combinando questo qui ok lo posso fare anche fin qua vediamo un po' se riesco a collegarlo che se riesco a fare sta cosa qui sono veramente un genio in posizione normale tu stai a più 90 in posizione normale stai a meno 180 vediamo se è vero forse meno 180 più 180 no aspetta dov'è il pussante scusi dov'è il pussante no aspetta allora in posizione normale stai a zero ok e quando lo premo stai giù però dall'altra parte devi girare quindi gira da più 180 ok vediamo così come funziona ok perfetto questo c'è quindi questo c'è sti cazzo di cose dammi qua un altro rotellino un altro rotellino collegato qui che deve ruotare in sincrono con questo e questo in pratica è la non so come chiamarlo è tipo una base che ruota ok se noi adesso questa qui la colleghiamo guardate qui così lei sta in questo modo a noi facendo così non ci serve a niente premie ok vedete qua cioè cadiamo però se noi facciamo che la che questo qui giri insieme a quell'altro quindi se questo qui lo mettiamo a 180 pure vediamo un po' che succede fammi premere no perché è successa questa cosa intanto fammi ok no aspetta che qua è un casino questo qui deve girare di 180 ma dall'altro verso mi sa ok vediamo così se funziona dov'è il pulsante qua ok c'è c'è ci siamo ci siamo solo che io non vedo il pulsante adesso qua ok premiamo ok non vedo il pulsante quindi sto cazzo di pulsante da qui lo devo togliere e dove lo metto e lo metterò lo metterò qui sopra ah ma io sono un pirla sono basta che lo metto non so dove metterlo sto cazzo di pulsante proviamo a metterlo qui sopra quindi ah vero non è collegato con niente lo devo collegare eh qua è poi un casino no perché ah si è rotto perché c'è questo adesso così lo devo mettere in un punto dove io ci posso arrivare sempre secondo me questo è il punto migliore vediamo se è vero quindi colleghiamolo lì diamo il pulsantino ok ah 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 che cazzo ho fatto è un sistema perfetto solo che qui non lo vedo non lo vedo non riesco a premerlo qui l'unico modo è metterlo qui ok si più o meno eh infatti poi quando cado non riesco più a scendere dove l'ho messo poi qui sotto quindi io da qui riesco a vederlo si quindi togliamo questo ricolleghiamo per l'ultima volta questo con questo mettiamo un po' meno velocità se no non ce la gustiamo nemmeno mettiamolo proprio lento cioè vaffanculo me la voglio proprio gustare la salita toglimi tutto dammi questo qui premi e guardate qui na 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 sto salendo ok ho fatto l'ascensore l'ascensore poi faccio un saltino arrivo qui arrivato qui però non vedo più niente eh eh scusi come faccio a spegnerlo con quello eh perché dove lo devo mettere no ho sbagliato una cosa oh cazzolina e poi come lo faccio abbassare e si cazzimo no si abbassa si abbassa allora questo qui non va bene qua si è un pirla questo qui lo devo mettere qui davanti in modo tale che io posso comandare tutto quanto ok riapri gentilmente vediamo se funziona vediamo se funziona e poi ci fermiamo qui ci fermiamo per oggi che abbiamo fatto una cosa incredibile mi emoziono con piccole cose mi emoziono allora tan 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 ok quella è la musica di stun wars può darsi che mi segnalano il video per una cazzata ok perfetto poi arriviamo qua premiamo ok questo si chiude e questo si chiude allora c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va dov'è qua il simbolino sto cazzo di coso dov'è possibile che non riesca a trovarlo non riesca a trovarlo allora aprimi qua la scala questo qui qual'è che non va questo qui forse più 90 sono tutti pari allora forse il problema è questo scusami proviamo a mettere 135 no così è troppo poco cioè è troppo 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 allora abbassalo un po' 105 andava bene però allora è questo che non va bene perché questo qui deve girare di 90 che numero era quello era il 2 il 2 e il 3 devono girare di 90 e infatti girano di 90 prendiamo a metterlo un po' meno di 90 75 e no ma 75 poi è un casino quando si chiude magari 75 ok così si chiude già un po' meglio ma scusi mi fa salire un attimo com'è che ho messo 75 sembra sempre uguale sembra sempre dritto però fammi cancellare un po' di cose qua se no non riesco più ogni volta devo fare scendi e sali da sotto ma scusa me lo fai cancellare? ok così lo vedo anche da sopra lo vedo non c'è bisogno che venga ogni volta sotto qui con l'ascensore signor ascensore buongiorno siamo lieti di offrirgli il miglior servizio sul mondo dove cazzo l'ho messo quel pulsantino? ok qua ok perfetto meno male che sono stonato così io me lo posso segnalare oh io ho fatto 75 ma qua 75 non capisco a chi si riferisce aspetto che mi sposto questo qua si chiude questi girano troppo poco quindi andiamo qua l'1 e il 2 girano troppo io però li ho ridotti sapete perché? perché potrei fare una cosa dovrei tutti quanti spostarli questo qua lo devo mettere più 90 qua e qua metto meno 90 qua più 90 e dai però mettili guarda che non mi fa mettere più 90 ok e invece questo qui lo lascia a 0 così lui scorre e quello lì lo fa per ultimo lo fa dovevo iniziare al contrario però va bene così no non funziona più ti pareva che lo rompevo eh signore mi si è rotta la scala mi si è rotta perché mi si è rotta la scala? perché l'ho messa qui in fondo e perché? ah perché forse beh 90 ok anche questo qui 90 e questo qui era meno 90 andiamo a scoprire come fare per ok stai fermo tu allora chiudi puntate lunghissime ok questo qui si chiude è questo che si chiude troppo quindi qual è il problema? fammi capire ah il 4 è il 4 che allora crea problema 165 180 vediamo un po' che succede il blu quello blu devo modificare fai così e fai 135 135 proviamo ad aprirlo chiudi no si chiude tantissimo si chiude forse devo devo togliere un po' prima fare 90 più 90 ok questo è 90 questo qui è sbagliato pure il 2 il 3 quanto fa? fate 90 anche voi fai tutti i 90 e che cos'è sta anarchia che c'è qua dei cosini ok 90 90 90 90 90 vedete qua già si vede più bello quando poi apro ma che voglio di caffè è bellissima poi di qua fai il sattello un po' di parkour tanta guarda che bella e questo è il mio ascensorino no sono caduto sono caduto non mi fa cadere più eh ti prego va bene cioè io mi divento così mi divento così ci basta poco ok perfetto quindi qua abbiamo la nostra casa sull'albero chiudiamo qui il il tutto non era pensata così cioè io volevo fare un'altra cosa c'è qui però boh funziona qui ho fatto anche ho fatto il muletto qui che mi alza e mi abbassa cioè che cazzo devo fare di più è bellissimo va bene finisce la mia puntata noi ci vediamo sarò troppo contento non riesco a chiudere non riesco a chiudere la puntata perché mi piace prevedere questo cosa guarda qui come mi fa volare fammelo guardare in terza persona ok premi ah perché qui scivola ah mi fa scivolare il bastardo in discesa mi fa scivolare ma come faccio a premere lì ce la farò mai non ce la farò mai in terza persona però volevo vedere una cosa premi no però salire vedete qua mi fa salire normale a parte che ci vedono le chiappette e c'è anche un po' di pancetta quindi poi arriviamo fin qua questa è la nostra casetta la base per la nostra casetta premiamo anche questo pulsante si chiude tutto tac tac ma che vodico fa che bellissimo si va bene fa schifo però shhh non diterò a nessuno noi ci vediamo nel prossimo episodio veramente chiudo qui questa puntata e fatemi sapere sotto nei commenti cosa potrei fare e cosa non potrei fare ciao